Dovremmo veramente chiudere la botte Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano magari su cose che i loro vigili possono verificarsi Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano magari su cose che i loro vigili possono verificarsi Dovremmo che così facendo distruggono la fiducia dei cittadini dell'Europa Terzo, gli organi di stampa, gli organi di stampazione che riprendono le posizioni del tanto peggio, tanto meglio Dovremmo veramente delle opposizioni, quindi le posizioni delle posizioni Dovremmo veramente chiudere la paura che sono fuori di ragione e fuori di realtà Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti gli organi di stampa che riprendono tutte queste affermazioni Che riprendono le posizioni del tanto peggio, tanto meglio Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti gli organi di stampa